E passiamo a questa bella Opel Mokka, 1.7 turbodiesel, 130 cavalli, auto sempre molto ben curata, una versione 2 ruote motrici, fine 2014 Euro 5B, unico proprietario, splendida, i chilometri sono pochissimi, solamente 59.800, comandi al volante con un cruise control e limitatore velocità, vendita ovviamente, climatizzatore automatico, 6 rapporti, gli interni sono ormai come di consueto un misto pelle e tessuto, come vedete è sempre stata ben curata, la panchina posteriore con il bracciolo centrale, in pelle, un bel vano bagaglio con la panchina sdoppiabile, veramente molto bella. Ripetiamo, 1.7 turbodiesel Euro 5B fino 2014, venite a vederla e a provarla qui a 6 marce a Varallo-Buglia.